Buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale, la politica in apertura. In primo piano il caso Bonafede, il centrodestra ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia, ad annunciarlo il leader della Lega Salvini, ricordando le rivolte nelle carceri con morti e feriti e le scarcerazioni durante l'emergenza Covid. In serata il Premier Conte ha incontrato la delegazione di Italia Viva per tentare una mediazione sulla questione Braccianti e sugli altri temi. Clima positivo fa sapere il Presidente del Consiglio Conte a proposito dell'incontro di oltre due ore con la delegazione di Italia Viva ricevuta a Palazzo Chigi. In una nota lo staff della Presidenza del Consiglio fa sapere che il Premier ha ribadito ancora una volta la sua totale disponibilità a discutere le proposte di Italia Viva per la ripresa economica. L'obiettivo di Conte rimane anche quello di riavvicinare 5 Stelle e il partito di Renzi, arrivati quasi allo strappo sulla regolarizzazione dei braccianti, colfe e badanti senza permesso di soggiorno proposta dalla Ministra Bellanova. No alla sanatoria, sì a una misura per lavoratori stagionali la parziale apertura dei 5 Stelle. Alla Bellanova pronta a mettere sul tavolo anche le sue dimissioni in caso di mancato accordo. Faccio il tifo per il governo perché tifo per l'Italia, i giochini della vecchia politica torneremo a farli quando ci sarà la normalità, ma oggi c'è uno tsunami in arrivo, allontana le ombre in serata Matteo Renzi. Meglio così il commento che arriva dal Partito Democratico. L'unica alternativa a questa maggioranza è il voto, l'avvertimento del segretario Zingaretti agli alleati inquieti. Con l'opposizione pronta a cogliere l'occasione, doppia, perché oltre allo scontro sulla proposta Bellanova, la maggioranza deve fare i conti anche con la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra con patto contro il Ministro della Giustizia Bonafede. Ministro accusato di non aver bloccato gli arresti domiciliari concessi a causa del Covid a 376 detenuti ad alta pericolosità, ma finito al centro delle polemiche anche per la mancata nomina del PM antimafia di Matteo Albertice dell'amministrazione penitenziaria. Accuse respinte al mittente da Bonafede. Ministro scomodo e per questo da sfiduciare la difesa a spada tratta arrivata dal Movimento 5 Stelle, ma a Bonafede serviranno tutti i voti della maggioranza la prossima settimana per evitare in aula la sfiducia. L'economia adesso, domani il MES sarà sul tavolo dell'Eurogruppo, non avrà nessun monitoraggio né aggiustamenti dei conti, confermano alla vigilia Gentiloni e Dombrovskis. Mentre ci sono ancora divisioni e rinvine la maggioranza sulla strada dell'approvazione del decreto maggio da 55 miliardi a sostegno di imprese e famiglie. Domani è il giorno dell'Eurogruppo che varierà il nuovo MES, quello legato all'emergenza Covid. Oggi Bruxelles ha cercato di eliminare gli ultimi dubbi sulle condizioni. Tutti gli Stati europei possono accedervi perché tutti hanno bilanci in ordine e debiti pubblici sostenibili, anche quell'italiano, nonostante l'impennata dovuta alla pandemia. Non ci saranno i controlli stile Grecia, con sorveglianza della Troica e richieste di aggiustamenti di bilancio. L'unico vincolo sarà l'impiego di fondi esclusivamente per spese dirette ed indirette legate alla sanità. Della durata del MES si discuterà domani. Il governo in questi giorni è anche impegnato a varare il decreto maggio. Al centro del provvedimento l'aiuto ai lavoratori a partire dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali fino al 31 ottobre, con la probabile novità legata alla possibilità da parte delle aziende che hanno licenziato all'inizio della crisi di reintegrare per poi poter ottenere la cassa integrazione per il dipendente. Confermato il prolungamento del divieto di licenziamento fino al 31 agosto, della naspia e dell'indignità mensile di disoccupazione, all'interno del decreto maggio anche la sospensione del versamento dei contributi fino al 30 giugno, nonché l'introduzione del contributo per colfe e badanti e la conferma del bonus autonomi. Si discute invece ancora sul reddito di emergenza, sui finanziamenti destinati alle imprese, sul credito d'imposta al 100% per gli affitti commerciali. I dati di oggi sul coronavirus. Il numero dei decessi resta sempre alto, 274 anche se in calo, e ci sono ancora troppi contagi in Lombardia, 720 oggi, quasi la metà del dato nazionale. Intanto i governatori sono in pressing sul governo per anticipare le riaperture del commercio al dettaglio. Il ministro degli affari regionali Boccia precisa le linee guida del governo. L'11 maggio verranno esaminati i dati del contagio monitorati dal Ministero della Salute. Le regioni premono per nuove aperture, il governo frena, la discussione continua. Dalla riunione della conferenza Stato-Regioni arriva la richiesta di un chiarimento, regole più definite sul nuovo calendario da predisporre per completare la ripartenza. Serve, dicono, un nuovo decreto del Presidente del Consiglio per consentire ai governatori decisioni autonome basate sulla situazione dei territori, anche prima del 18 maggio. Capofila dei richiedenti, il Presidente del Veneto Zaia, preoccupato ad esempio della situazione del commercio al dettaglio. Il ministro per gli affari regionali Boccia non esclude la possibilità di differenziazioni, ma solo a seguito di valutazioni sui dati epidemiologici da parte del Governo centrale, dei vari parametri legati alla situazione sanitaria e anche sulla base delle linee guida dell'Inail. Il confronto è stato aggiornato a lunedì prossimo. Si valuta una riapertura in sicurezza per i commercianti di abbigliamento e articoli sportivi. Anche il capo della protezione civile Borrelli ribadisce se i dati lo richiederanno sarà possibile un nuovo inasprimento delle misure. È stato invece raggiunto un accordo tra il Governo e la Conferenza Episcopale sulle regole per la ripresa delle funzioni religiose nelle chiese. Per partecipare alla Messa i fedeli dovranno indossare le mascherine, non ci si potranno stringere le mani per il segno di pace e per impartire l'eucarestia in guanti e mascherina anche i sacerdoti dovranno mantenere una distanza di sicurezza. Prima di chiudere una notizia arrivata poco fa in redazione riguarda il Russiagate. Il Dipartimento di Giustizia americano ha lasciato cadere le accuse contro l'ex consigliere alla sicurezza nazionale Michael Flynn coinvolto nel Russiagate appunto e messo in stato d'accusa dal procuratore speciale Mueller. Un vero e proprio colpo di scena dopo che Flynn si era dichiarato colpevole di aver mentito all'FBI a proposito dei cui contatti segreti con un diplomatico di Mosca. La decisione è arrivata dopo che lo scorso mese Donald Trump aveva detto di considerare la grazia per l'ex consigliere della Casa Bianca. Era davvero l'ultima notizia, l'informazione torna come sempre domattina alle 7. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.